La plastica è uno smog diffuso in tutte le acque del pianeta. Più di 5 miliardi di pezzi di plastica galleggiano sui mari del mondo, il più grave inquinamento della storia moderna, al punto che il World Economic Forum stima che nel 2050 il peso della plastica nel mare supererà il peso dei pesci. Per contribuire a ridurre il consumo di prodotti in plastica e per proteggere l'ecosistema a partire dai piccoli gesti quotidiani, il Consiglio regionale del Piemonte ha lanciato la campagna di vieto di plastica per un Piemonte plastic free. La campagna, che prevede anche momenti formativi per i dipendenti di Palazzo Lascaris e convegni con esperti del settore, sarà rivolta in particolare agli studenti che potranno così conoscere e prendere parte alle iniziative di monitoraggio ambientale proposte in collaborazione con Legambiente ed ERI. A lanciare il primo messaggio è stato proprio il Consiglio regionale che dalla MENX ha bandito bicchieri e posati in plastica. È un appello del Ministero dell'Ambiente, è un appello dell'Unione Europea. La questione della plastica sta diventando di estrema gravità per il futuro dell'umanità, certamente non tanto e non solo per il presente. L'obiettivo è quello entro il 2025 che gli stati membri dell'Unione Europea riducano del 25% l'utilizzo della plastica. La plastica, una volta dispersa nell'ambiente, si sgretola ma non degrada, anzi concentra altri inquinanti, microsfere e microplastiche, che entrano così nella catena alimentare della fauna marina, avvelenandola al punto da influire anche sulla produzione dell'ossigeno. Anche nel pesce che mangiamo, sicuramente presente soprattutto nei molluschi, la presenza di plastica è conclamata, ma persino nel sale marino le ultime ricerche hanno dimostrato la presenza di micro nanoplastiche. Il 10 gennaio, negli spazi dell'ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale, verrà inaugurata la mostra Innesti Artici, che racconta proprio la lunga corsa delle plastiche verso il Polo Nord, documentata dalla spedizione del Five Guys Institute, a cui ha preso parte anche il giornalista torinese Franco Borgogno.